ritorna daniele silvestri dopo il grandissimo successo tour disco con max gazzè e nicolo fabi amici di sempre ritorna in prima persona con un nuovo lavoro e un tour teatrale mai fatto prima e al suo esordio assoluto per quanto riguarda il tour teatrale allora attenzione perché questo album davvero molto molto carino 18 canzoni è intitolato acrobati e ha collaborato caparezza dio dato dell'era diego mancino i funky pushers insomma un disco davvero molto ricco daniele ha rivelato sulla sua pagina facebook lo dico solo a voi e poi magari lo negherò ma credo sia la cosa più bella che ho fatto partirà con la puntata zero il 27 febbraio da foligno l'auditorium san domenico e poi proseguirà fino al 14 marzo dove chiuderà la tournea al teatro golden di palermo assolutamente da non perdere il nuovo lavoro acrobati di daniele silvestri e il suo tour teatrale su quali ali di talibri la validità quali ali di colibri libri nell'aria di quali macabri crimini tradici o comici mi dici che c'è chi dire criminerà grazie a tutti grazie a tutti